Un saluto a tutti! Ultimi giorni del mese di settembre verso un graduale miglioramento del tempo sulla nostra penisola, eccetto qualche nota di stabilità sulle regioni più meridionali. Con l'ausilio della grafica accanto vediamo lo scenario sinottico generale sul nostro continente. L'anticiclone scandinavo, ben organizzato con valore al suolo fino a 1045 atto pascal, è il principale protagonista sullo scacchiere delle alte e delle basse pressioni. Masse di area più fredda in quota transitano sul suo lato orientale alimentando così la circolazione di bassa pressione sui settori orientali del nostro continente. Gli effetti al suolo subordinati a tale configurazione sinottica sono tipicamente autunnali, con piogge e temporali al sud, più stabile sul resto della penisola ma con temperature sotto la media del periodo specie sulle regioni adriatiche. Uno scenario meteo questo il quale ci accompagnerà anche negli ultimi giorni del mese, con qualche temporale al sud, piaciuto invece sul centro e al nord Italia. Al momento è tutto, seguite i nuovi aggiornamenti sul tempo in Italia in questi ultimi giorni del mese di settembre.